Le mascherine non ci sono e servono a poco o a nulla, almeno quelle a 50 centesimi che il governo ha promesso di far vendere a prezzo calmirato, le chirurgiche risultano introvabili ed a quel prezzo non è stata aggiunta l'imposta del valore aggiunto. L'IVA insomma non è tutto. A fare luce e chiarezza sull'argomento è il professor Pasquale Lenza, titolare della farmacia Ferrara a Salerno. Le mascherine ci sono ma non ci sono perché introvabili quelle della regione Campania o quelle che lo Stato vuole far vendere a 50 centesimi più IVA. Le spiego anche il perché. È abbastanza evidente che pagandole già i nostri fornitori 50 centesimi più IVA dovrebbero darcele costo per costo, emettendo fattura e quindi pagandoci le tasse ovviamente l'IVA. È evidente che noi comperandole dovremmo venderle ai 50 centesimi più IVA che lo Stato pretende e dovremmo poi farci rimborsare la differenza tra il prezzo di acquisto che ci fa il fornitore e il prezzo di vendita ridotto dallo Stato. Il problema è che però non si è ben capito come perché facendo battuta di cassa noi andiamo a pagarci ovviamente le tasse sopra e ovviamente il corrispettivo dell'IVA. Si trovano le mascherie e peraltro hanno anche un'utilità abbastanza poco valida, molto limitata perché perfino su quelle che la regione Campania ci manda e che noi abbiamo da dare a chi presenta un'esenzione per reddito. Noi dobbiamo andare su queste mascherine portano la dicitura, attenzione, non proteggono le vie respiratorie nemmeno dalla polvere, ergo sono inutili. Una mascherina come quella chirurgica che lo Stato mette a disposizione, vorrei che fosse chiaro, preserva chi sta di fronte a me dalle emissioni di saliva che io posso ed emetto quando parlo. però se ho una mascherina di tipo chirurgico e lei ha una mascherina di tipo chirurgico nessuno dei due è preservato dalle emissioni attraverso la respirazione di un eventuale virus perché passa attraverso le maglie di quella mascherina e ovviamente passa attraverso quelle di chi ho di fronte. Sono praticamente inutili, servono semplicemente come prima difesa dalle emissioni di saliva. Noi abbiamo avuto una fornitura dalla regione Campania che ci ha dato queste mascherine da distribuire solo agli indigenti, cioè a chi presenta un certificato, un tesserino di esenzione per reddito. Quelle che dovrebbero essere messe a disposizione dello Stato, lo Stato non ne ha fornite ma ne ne fornirà. Ha detto voi ve le procurate, voi ve le vendete, noi vi diamo la differenza che avete pagato tra il prezzo d'acquisto e i 50 centesimi più IVA a cui dovete vendere. Non ce n'è disponibilità perché nessuno compra per rimetterci tasse IVA. È una richiesta continuativa anche perché nel mio caso a maggior ragione essendo una farmacia di passaggio vicino alla stazione è normale che ho una richiesta enorme di questo tipo di mascherine. Quando io cerco di spiegarlo, più o meno sì, io cerco di spiegarlo anche ai miei clienti dell'inutilità di quel tipo di mascherine ma ripeto se le prendo una di quelle che la regione Campania mi dice di distribuire gratuitamente agli indigenti c'è scritto chiaramente, c'è scritto in maniera chiara. Quindi si sta facendo secondo me un'informazione sbagliata perché si sta dicendo alle persone che non hanno tempo di entrare nel dettaglio tecnico se ti metti la mascherina sei preservato. Non è assolutamente vero soprattutto con le mascherine di tipo chirurgico.